eccoci qua siamo live buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio anche a Valerio il nostro ospite di quest'oggi che adesso andiamo a introdurre ciao Valerio come stai? Tutto bene tutto bene ti ringrazio bene bene ottimo allora ragazzi prima di partire con questa live live dei servizi come sempre ogni martedì fateci sapere dateci un feedback se ci vedete se ci sentite anche alla regia da Gabriele aspettiamo questi 10 15 secondi come sempre per poi insomma introdurre l'argomento di quest'oggi quindi fateci sapere anche se ci state ormai insomma è periodo se ci state seguendo da una spiaggia dalla montagna da un qualsiasi posto di villeggiatura intanto ok ho ricevuto da Gabriele che ci vedono ci sentono perfettamente eh ormai insomma ho sentito io non vivo in Italia come qualcuno sa vivo a Hong Kong e qui è molto caldo però ho sentito dire che anche in Italia la morsa del caldo ormai ha preso il il sovrabbento confermi Valerio confermo confermo qui a Roma veramente una moria veramente non ti godi più l'esterno stai chiuso perché veramente è impressionante speriamo si rinfreschi un po dai quindi o mare o montagna o stanza con aria condizionata esatto esatto molto bene dai allora siamo insomma pronti a introdurre l'argomento di quest'oggi oggi parleremo ehm di listing eh quindi come ottimizzare un listing come creare eh un listing anche accattivante e bello da vedere quindi listing e pagina di prodotto e inoltre anche una gestione eh di tutto quello che è l'inventario di Amazon per parlare di questo oggi abbiamo ospite Valerio eh Valerio è un account manager che collabora con noi ormai dagli albori della della piattaforma servizi di di scuola e commerce eh in queste settimane avete avuto modo di conoscere prima Roberto poi Marco poi Silvio insomma a dimostrazione del fatto che oltre a me e Maurizio che avete avuto modo di conoscere dall'inizio di questa tipologia di live c'è poi un team eh fatto di di persone che collaborano all'unisono eh verso un unico obiettivo l'obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti le nostre aziende che seguiamo a performare sempre meglio all'interno del marketplace di Amazon che come ripetiamo sempre sta diventando sempre più maturo ci sono sempre più figure professionali che si affacciano ehm alla alla vendita sulla piattaforma su Amazon e anche noi chiaramente dobbiamo seguire un po' tutto questo trend e quindi ehm dare il meglio di noi stessi mettere tutte le nostre capacità eh all'interno del nostro business su Amazon per renderlo profittevole detto questo ho appena introdotto eh l'argomento saluto saluto anche Stefano ciao Stefano eh ben trovato vi ricordo di farci delle domande chiaramente qui in in nella chat oppure anche alla mail servizi scuole commerce punto com però se ci fate delle domande adesso avremo modo di rispondervi eh durante questa live eh premesso questo lascio due minuti la parola a Valerio per eh presentarsi per spiegarci quello che fa all'interno eh della piattaforma servizi di scuole commerce e poi andiamo a affrontare l'argomento di oggi. Allora di nuovo buon buon pomeriggio a tutti sono sono Vanerio eh allora anch'io come tanti ho iniziato comunque con a vendere con il mio account era il duemiladiciotto quando mi interessava all'argomento eh presi comunque ancora all'epoca non non conoscevo ancora scuole commerce presi un altro corso di formazione quindi lo segui passo dopo passo comunque arrivai ad avere i miei prodotti il mio marchio e tutti nel mio account col passare del degli anni comunque eh imparai sempre di più a conoscere scuole commerce eh tant'è che poi eh presi anche il loro corso eh rimasto eh rimasto perché ero rimasto parzialmente insoddisfatto del primo e devo dire è stata una rivelazione anche per il fatto comunque che fu introdotto il percorso di eh Amazon account management che mi interessò parecchio eh ed è grazie a quel percorso che che sono arrivato fino a qui quindi ho cominciato comunque a operare come account manager con alcuni account eh fino a che ho preso contatto poi con internamente con scuole commerce eh grazie a dei lavori comunque che avevo che avevo portato a termine durante lo stage e e niente sono preso contatto con con il team servizi ho avuto la fortuna comunque di partire diciamo eh insieme a loro con con il progetto e vi spiego brevemente di cosa mi occupo allora mi occupo ehm di gestione un account sicuramente a livello generale principalmente di catalogo di gestione inventario e di realizzazione comunque di schede prodotto indicizzate SEO eh sia da zero sia comunque per quanto riguarda l'ottimizzazione di pagine prodotto già esistenti quindi sia italiane che che estere e anche di risoluzioni comunque sempre legate al catalogo di risoluzione di varie problematiche che possono nascere al suo interno adesso comunque vi faremo vedere comunque degli esempi introdurremo un po' l'argomento comunque della delle listing quindi come realizzare comunque una buona listing che che funzioni e e lo vedremo insieme quindi se avete domande potete farle tranquillamente e possiamo partire ottimo faccio anche uno spoiler perché il nostro Valerio poi è sempre dedito ad apprendere eh nuove cose e quindi sta anche insieme al riparto pay per click iniziando un po' un percorso all'interno delle pay per click di Amazon che però diciamo che sarà eh tema di un'altra live va bene Valeria adesso una volta che poi avrai imparato dal nostro Gianmarco che tra l'altro anche lui avete conosciuto ehm qualche settimana fa eh una live una volta che insomma saremo al cento per cento poi faremo anche una live con te sulle sulle campagne pubblicitarie quindi quella è una dimostrazione che non si finisce mai di imparare quindi assolutamente no ci vuole tanta dedizione ci vuole tanta voglia di imparare però per chi ha voglia di imparare eh insomma le le all'interno di Amazon sono infiniti oppure se uno non ha il tempo di imparare può eh rivolgersi a noi eh e insomma noi possiamo aiutare nelle varie fasi del del business della vendita su Amazon quindi dicevamo listing ehm quello che noi diciamo sempre in un mercato così ehm che si sta evolvendo sempre di più il listing è una prerogativa importante è un po' quello che è il biglietto da visita non solo del nostro prodotto ma anche della nostra azienda della filosofia aziendale del modo in cui operiamo e del modo in cui ci rapportiamo al cliente eh avere un listing impattante quindi che sia bello da vedere ma che abbia anche poi tutte le specifiche tecniche tecniche che andremo a vedere è molto importante perché quello che noi su Amazon dobbiamo evitare assolutamente è avere il nostro prodotto la nostra azienda al pari di tutte le altre cioè scelgo eh il prodotto X perché per nessun motivo valido perché ho visto quello scelgo quello ecco noi dobbiamo cercare di evitare tutto questo e indurre il nostro potenziale cliente a scegliere il nostro prodotto perché arriva su una pagina prodotto appunto che che è ben fatta e che quindi dà già un impatto qualitativo a tutto il a tutto il business che ci sta dietro come rischio come spieghiamo sempre la vendita online differisce dalla vendita offline per il principale motivo dove i clienti non possono realmente avere il prodotto in mano non possono toccare il prodotto quindi devono basarsi su alcune sensazioni che sono quindi visive e quindi entra in gioco anche un servizio fotografico ma anche un listi ben curato molto particolare e anche dobbiamo all'interno del marketplace di Amazon all'interno di centinaia e migliaia di prodotti ma centinaia di competitor che hanno un prodotto simile al nostro farci trovare e qui entra in ottica la SEO una SEO specializzata su Amazon quindi differente da quella che può essere creata tramite un blog sul proprio e-commerce o sul proprio sito che sia esso Shopify o con altre piattaforme per cui una SEO specifica di Amazon che permetta al nostro cliente di trovare il nostro prodotto tramite le parole chiave che lui digiterà sulla barra di ricerca giusto Mario non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo giustissimo giustissimo infatti tutto quello che hai detto lo andremo proprio a vedere negli esempi che mostreremo cioè troverà proprio riscontro perfetto in nei nostri casi pratici assolutamente concordo ok allora direi di iniziare magari con il primo caso studio che abbiamo iniziamo magari a vedere il caso di un cliente che si è rivolto a noi per migliorare il suo listing il suo SEO inizialmente lui già vendeva su Amazon aveva già creato il suo listing c'erano alcuni problemi il prodotto non riusciva a convertire ecco che dopo il nostro intervento andiamo a vedere un attimino intanto quello che abbiamo cambiato sia in un aspetto diciamo macro che poi anche nei dettagli quindi io adesso vado subito a fare la condivisione dello schermo ok ci dovremmo essere quindi diciamo questo era il prodotto in questione del cliente abbiamo tantissime case history però chiaramente portiamo qui in live solamente alcune giusto per farvi capire quello su cui siamo andati a lavorare e qual è stato il risultato finale ci vuoi commentare un po' questa diapositiva Valerio assolutamente sì allora come comunque potete vedere anche voi la pagina si era presentata così al momento in cui siamo prima del nostro intervento diciamo e allora per quanto riguarda dal lato fotografico ad esempio questo è un caso in cui il cliente ha già buono materiale e quindi comunque è stato magari un po' risistemato come ordine però le immagini già erano per fortuna di buona qualità e comunicative allora per quanto riguarda la listing in sé allora come potete constatare il titolo che è la parte fondamentale comunque perché è l'unica parte visibile insieme all'immagine dei prodotti prima che prima di cliccare effettivamente sulla sulla scheda il titolo è molto appare molto povero molto scarno comunque sia di informazioni che di parole chiave proprio e diciamo descrive il prodotto in maniera molto superficiale parla del modello ma comunque non dice altro questo comunque sta a significare che a livello seo la pagina comunque risulterà inefficace e per quanto riguarda i bullet point stesso discorso allora descrivono sì il prodotto in una maniera comunque approssimativa ma non come potrebbero farlo molte caratteristiche sono state comunque omesse e molti anche byte non sono stati sfruttati e cosa comunque sconsigliatissima e e comunque diciamo l'idea che sia sul prodotto è molto non è comunque molto povera e rispecchia comunque la la pagina a livello di informazioni ma anche non solo a livello visivo ma anche a livello comunque di di indicizzazione seo per le parole chiave che comunque non ci sono e adesso vi faremo vedere comunque dopo il nostro intervento andremo a parlare comunque di quello che è stato fatto e e lo potete vedere comunque insieme a noi mentre ve lo spieghiamo quindi diciamo che su questa pagina quello che possiamo vedere le problematiche sono sostanzialmente due un aspetto seo dove le parole chiavi che qua sono stati utilizzate sono come dicevi tu scarne quindi sono un pochino sono poche effettivamente quindi se un cliente va a cercare il prodotto con termini diversi da il classico estintore domestico difficilmente viene viene indicizzato e verrà quindi trovato chiaramente se un cliente non ci trova non potrà neanche poi alla fine convertire il suo acquisto nel nostro nel nostro account quindi questa diciamo è la prima problematica che si riscontra sia a livello del titolo che è molto importante per l'indicizzazione ma anche come possiamo vedere dalle dai dai cosiddetti bullet point oltre al fatto che come diceva valerio ho poche informazioni molto basiche a livello dei bullet point giusto giustissimo giustissimo ogni bullet point prima di tutto non è sfruttato comunque come dovrebbe perché amazon comunque ci mette a disposizione molti più caratteri per i prossimi 450 massimo addirittura 500 fino a 500 ci si può arrivare per la maggior parte del 200 200 è il titolo e anche il titolo non credo che in questo caso non li sfrutta non ci arriva non ci arriva 200 è importantissimo comunque siccome lo spazio ce l'abbiamo quindi ogni volta che ogni qualvolta possiamo inserire nuove informazioni bisogna farlo sia per un per quanto riguarda comunque un discorso di indicizzazione organica quindi usare termini di ricerca inerenti per il prodotto quindi ad alto volume sia per quanto riguarda comunque un discorso anche di di conoscenza in sé del prodotto comunque non dobbiamo dare per scontato nessuna informazione anche magari quelle che a noi possano sembrare scontate o stupide magari per un cliente che come questo caso non ha mai acquistato un estintore non è scontato il fatto che non so ad esempio è a polvere oppure può essere a polvere può essere a schiuma non conoscendo magari queste caratteristiche lui ovviamente si basa su quello che vede tante volte non si convince perché non sono sufficienti solamente le immagini ma anche comunque la conoscenza far conoscere il proprio prodotto questo si ricollega a quello che dicevi tu Lorenzo prima quindi comunque dobbiamo simulare il più possibile eh ovviamente l'esperienza di acquisto fisica di un prodotto che inoltre questo porta dietro anche il problema di eventuali resi perché se io compro qualcosa non avendo la sicurezza di quello che sto comprando ma magari avendo solamente una mia idea che poi non è quella del prodotto in sé per sé ma perché io poi alla fine come venditore non sono riuscito a spiegarlo e a trasmettere questo messaggio ecco che poi l'acquirente una volta che fa un acquisto l'acquisto non è congruente a quello che era il suo pensiero ho alte possibilità di poi avere dei resi di reso esatto e ovviamente è una cosa che bisogna evitare assolutamente come la peste quindi poi qui vediamo anche un altro problema però magari vediamo l'altra diapositiva di modo che poi possiamo fare un paragone assolutamente quindi questo qui era la situazione prima del nostro intervento e questa è la situazione dopo il nostro intervento Valeria allora allora innanzitutto vorrei partire con una premessa perché naturalmente prima di poter realizzare una buona listing va fatto soprattutto nel caso non lo si conosce va fatto uno studio sul prodotto quindi io personalmente cosa faccio vado su un word e dentro mi appunto tutte le caratteristiche alcune le trovo dal sito ufficiale alcune le trovo comunque facendo delle ricerche google tutte le caratteristiche che possiede quel prodotto stupide e anche più tecniche in modo da avere un quadro generale per poi partire e anche per poter usare al meglio poi le parole chiave che si trovano perché ovviamente la fase successiva qual è quella di fare una ricerca approfondita una ricerca analisi seo diciamo delle parole chiave attraverso software quali ad esempio elium 10 quindi soprattutto cerebro e anche magnet per quanto riguarda i sinonimi quindi si interrompo noi abbiamo delle delle scontistiche con elium 10 per chiunque voglia insomma addentrarsi anche un po all'interno di questo tool che è molto importante per i venditori di amazon chiedo magari a gabriele se può mettere il link nei commenti di elium 10 grazie prego valerio si software fondamentale alla fine si può dire che è fondamentale perché comunque è in grado di attraverso anche l'utilizzo intelligente comunque di filtri restituirti delle parole chiave sicuramente tante anche magari che non avevi in mente ma parole chiave comunque eh molto inerenti al prodotto e ad alto volume perché comunque ti dà la possibilità di vedere ogni termine quanto è ricercato mensilmente dal dagli acquirenti insomma quindi allora va fatta sicuramente un'analisi di questo tipo quindi va eh presa fa fatta questa va creata questa lista di keyword a a volume più o meno alto e va ordinata sicuramente va scremata quindi eh togliendo le parole chiave non inerenti o comunque quelle che non aggiungerebbero nulla alla pagina o che comunque hanno basso volume quindi eh sicuramente fa spazio alle parole chiave più cercate se avanza spazio mettere anche quelle un po' meno cercate quindi ragionamento è questo logicamente allora eh cosa succede una volta ovviamente che sia questa lista già scremata già eh ottimizzata la mettiamo su un processore sempre su Helium 10 che può essere Scribbles o Listing Builder e da lì comodamente si può iniziare a stilare la listing eh noi ovviamente abbiamo già fatto come dicevo prima lo studio del prodotto in anticipo quindi una volta che hai la listing eh sei sarai facilitato comunque nella nello stilare la pagina allora eh come avevamo accennato comunque in precedenza il titolo della parte comunque principale è quella più visibile di ogni prodotto insieme alla foto qual è diciamo la gerarchia che bisogna usare un po' quella che dicevamo prima quindi le parole chiave con più alto volume vanno utilizzate nella prima parte del titolo tutte le altre mano mano si prosegue scorrendo anche perché bisogna sempre tenere conto che la visione da smartphone è limitata quindi la maggior parte delle persone ormai eh acquista comunque da da mobile di conseguenza dobbiamo adattarci dobbiamo tenere conto anche di questo quindi eh dal cellulare mi sembra che si possono visualizzare una cinquantina di caratteri sì solamente quindi è importante anche eh identificare già il prodotto in in quei pochi caratteri lì logicamente quindi anche per invogliare un po' il cliente a cliccare eh quindi abbiamo ehm seguito questo ragionamento e abbiamo poi stilato tutta la pagina allora abbiamo ehm comunque descritto il prodotto quindi estintore casa di design ecco qui ad esempio abbiamo fatto ma ci arriviamo anche dopo eh un lavoro anche di di catalogo nel senso che abbiamo eh siamo andati a implementare tutte le varianti che già erano nell'account ma che non erano associate a nessun parent assolutamente avremo modo di vederlo meglio e logicamente poi si passa ai punti elenco allora quindi nel titolo abbiamo usato le parole chiave quelle proprio con più alto volume quello principali nei bullet point anche lì arriva il bello perché eh ognuno di essi con ognuno di essi avrete modo di eh valorizzare ogni caratteristica del prodotto valorizzarla eh in che modo allora noi ad esempio nel primo bullet point abbiamo un po' introdotto il prodotto abbiamo detto che cos'è eh per cosa è particolarmente indicato quindi per quali situazioni e anche per eh per quali scenari per quali scenari d'uso ad esempio qui abbiamo ehm diciamo inserito una piccola lista d'uso eh questo questo prodotto ad esempio può essere usato in auto camper roulotte imbarcazioni molto importanti queste liste in ambito SEO perché comunque contribuiscono enormemente nell'indicizzazione organica e detto questo mi aggancio un attimo a livello più generale dicendo che una buona listing sostanzialmente io dico sempre che deve parlare due lingue la lingua di Amazon quindi dell'algoritmo e la lingua comunque dell'acquirente cosa vuol dire la lingua di Amazon per tutto riguarda tutti gli aspetti legati al all'ambito SEO quindi all'ambito delle parole chiave quindi logicamente eh l'aspetto eh importantissimo eh è quello quindi eh usare in modo intelligente le parole chiave ricavate comunque dai vari software e eh inserirle ovviamente in senso in in senso compiuto quindi le frasi più possibile di senso compiuto mai a casaccio e e quindi in quel modo l'algoritmo comunque noterà il tuo annuncio soprattutto nella fase iniziale di aggiunta e e quindi lo spingerà e inizierà pian pianino a indicizzarsi a livello organico cosa vuol dire invece parlare eh all'acquirente la lingua dell'acquirente vuol dire comunque rendere la pagina visivamente comunque eh come dire piacevole anche come struttura quindi non appesantirla troppo fare ad esempio uso eh delle delle emoji quindi delle in questo caso abbiamo usato delle emoji dell'estintore prima di ogni bullet point per renderla comunque graficamente un po' più accattivante esaltare quindi ehm le caratteristiche ad esempio qui abbiamo li abbiamo come potete vedere prima non era non era stato fatto successivamente noi abbiamo esaltato le caratteristiche in ogni bullet point evidenziandoli in maiuscolo o comunque introducendo il bullet point in maniera comunque eh da eh invogliare un pochino il lettore a leggerlo tutto e magari anticipandogli poi quello che andrà a essere approfondito nel nel paragrafo quindi comunque sia esteticamente ma sia a livello comunque di discorsività quindi naturalmente eh la pagina eh sempre per il discorso che facevamo prima dobbiamo far sentire in mano il prodotto al cliente in ogni modo possibile più possibile naturalmente e quindi comunque utilizzare un linguaggio eh che sia fluido che non sia macchinoso e e quindi che sia comunque più leggibile possibile eh quindi dopo un primo bullet point introduttivo introduttivo siamo andati ad approfondire le altre varie caratteristiche ad esempio design italiano molto importante sempre comunque per quanto riguarda il made in Italy dopo anche ci torniamo comunque che ci sarà una listing apposita e ad esempio per i prodotti eh di che necessita di certificazioni è altamente consigliato eh riservare un bullet point apposito quindi in questo caso gli abbiamo riservato l'ultimo certificato quindi è importante è fabbricato seguendo rigorosi standard internazionali quindi rassenerare il cliente informarlo anche di di queste certificazioni e quindi del fatto che il prodotto è sicuro quindi il messaggio è quello assolutamente e diciamo che anche a livello comunque già di impatto giusto eh se io guardo questo listing e il listing iniziale diciamo non c'è paragone anche il cliente che arriva sul nostro prodotto si trova già un una pagina molto più curata molto più gratevole e infatti tempo pochi pochi giorni siamo diventati anche Amazon choice per una delle parole chiavi principali esattamente aggiungerei a tutto quello che hai detto tu correttamente specialmente eh per quanto riguarda ehm la SEO la possibilità che abbiamo poi di giocare molto più ehm in maniera molto più produttiva anche con le paper click perché avendo molti più termini ehm che puntano a questo preciso prodotto anche con le paper click poi riusciamo ad andare a targetizzare molti più termini e quindi portare molto più traffico all'interno della pagina esattamente sono strettamente collegate ecco perché comunque anche io personalmente sto cercando di approfondirle sempre di più perché comunque in un certo senso camminano di pari passo quindi andiamo a vedere anche ehm il la descrizione adesso anche la descrizione esatto questa è la descrizione come eh si presentava comunque inizialmente eh quindi anche qui molto molto eh basilare noi quello che consigliamo poi è sempre eh per chi ha i marchi registrati è quello di eh andare a creare e anche quello lo possiamo fare eh noi e dopo vedremo alcuni esempi i contenuti a più in questo caso nel momento in cui il cliente eh si era approcciato a noi non aveva ancora il marchio registrato quindi non abbiamo potuto inserire i contenuti a più però anche la descrizione rispetto alla descrizione definiamola originale quella eh che c'era prima abbiamo cercato di dargli una scorrevolezza e un aspetto più ehm presentabile appunto e il lavoro che è stato fatto è questo qua ecco quindi siamo andati esatto perché la descrizione comunque sia eh non è inutile anzi deve andare ad arricchire comunque possibilmente deve andare ad arricchire va bene sì ripetere alcune cose con parole diverse quindi fare una sorta di piccolo riassunto di quanto detto ma mh eventualmente andare anche ad arricchire quindi a a parlare di cose di eh aspetti di cui non si è potuto parlare nei punti elenco oppure menzionare nel titolo in questo caso ad esempio abbiamo inserito eh l'utilizzo per un prodotto del genere molto importante e quindi siamo andati comunque a valorizzare ancora di più eh a livello informativo la la pagina eh da notare che la pagina comunque è stata resa in eh formato HTML quindi eh che ti permette comunque di utilizzare eh il grassetto di andare anche a capo con i paragrafi e quindi renderla anche più leggibile un po' il discorso che facevamo prima quindi ehm logicamente la descrizione per com'era eh per com'appariva precedentemente invogliava molto poco la lettura oltre al fatto che poi leggendo si acquisivano poche informazioni in più se non nessuna quindi renderla più leggibile ehm utilizzando anche anche l'HTML e magari concludendo anche ad esempio questi sono piccoli consigli con una call to action ad esempio acquista ora il nostro prodotto comunque nel nostro caso non dovrei più scegliere la sicurezza e bellezza ma solo poi il nome del marchio comunque un simbolino comunque una call to action che eh spinga il cliente comunque a passare alla alla fase successiva e e questi diciamo erano i consigli generali per quanto riguarda le descrizioni eh la per quanto riguarda l'HTML un appunto perché Amazon comunque ufficialmente non lo supporta più ma in realtà poi eh ancora l'algoritmo lo prende quindi lo lo assimila e lo e lo rende comunque visibile quindi al momento finché ovviamente cioè Amazon ce lo permette e è consigliato comunque agire così agire in questo modo e renderla in questo formato qui. L'ultima cosa su poi passiamo a un altro caso che volevo un attimo evidenziare era proprio eh la gestione dell'inventario che abbiamo fatto eh qui non c'era nessuna variante o comunque erano messe in un modo difficilmente ehm che poteva venire trovato dal cliente qua le abbiamo risistemate di modo che ogni ogni variante sia ben visibile per poi essere scelta. Esatto abbiamo ripristinato esatto le relazioni parent child del dell'inventario in modo corretto in modo comunque chiaro che eh per per far sì che il cliente comunque potesse agevolmente scegliere navigare tra gli tra le varie varianti. Andiamo a vedere un contenuto a più che abbiamo lavorato che ne che ne dici Valerio? Sì assolutamente sì. Questo era il contenuto a più eh di una pagina di eh partenza giusto? Quindi insomma molto eh basilare. Esattamente. Eh eh esatto questo è come appariva inizialmente questo è un prodotto comunque diverso da una borraccia termica e diciamo ehm c'è stato commissionato comunque commissionata comunque l'ottimizzazione anche della della pagina a più del contenuto a più resa possibile ovviamente eh dalla dalla registrazione del marchio naturalmente quindi comunque si ha un grosso vantaggio. Eh allora ehm in questo caso la versione originale allora almeno quello che ho notato io in primis ma comunque quello che noterete anche voi è eh che appare un po' disordinata quindi è come se non sia ehm diciamo messa in ordine messa a posto e anche però a livello comunque di contenuto eh un po' il discorso della descrizione non aggiunge nulla non aggiunge nulla a quanto detto ehm anzi occupa molto molti byte per eh i dettagli del prodotto che possono benissimo essere inseriti eh diciamo in in altri in altri punti anche della stessa pagina a più ad esempio sulla destra o comunque nella pagina in sé sotto dettagli prodotto o anche dopo come andremo andremo a vedere nella in una tabella comparativa quindi comunque anche lo spazio è gestito in maniera non ottimale sia ai fini SEO sia ai fini comunque di della forma insomma della forma in sé della pagina e anche anche il banner comunque superiore è evidente che eh diciamo è un banner comunque sì professionale però poco indicato magari eh per essere posizionato in in un contenuto di questo tipo eh perché comunque le bottiglie sono anche molto eh giocose no quindi hanno anche questa questo leitmotiv di 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 non essere la classica ehm bottiglia termica eh di di colore singolo però insomma magari anche per un pubblico un po' più eh più giovane e che a cui piaccia magari avere un prodotto di di design con un po' di colori infatti la cosa interessante è proprio quella quindi anche vedere eh lo stile del prodotto e riversarlo poi nella pagina più dove si ha possibilità perché poi nella pagina più eh si fa uso di molte grafiche molte molte immagini e quindi come potete vedere come potete vedere è quello che abbiamo fatto che abbiamo cercato di fare quindi anche il banner superiore eh in questo caso specifico lo abbiamo rifatto quindi diciamo risaltando molto di più sia il marchio che il prodotto in sé che prima addirittura era tagliato e quindi comunque potete capire che mh valorizzato eh quasi nulla in questo caso abbiamo dato più colore anche basandoci sul stile del prodotto come accennava prima Lorenzo e siamo andati eh come potete vedere ehm a evidenziare gli aspetti principali alcuni già menzionati ovviamente nella pagina ma eh male non fa perché comunque se eh si deve trovare il modo di eh sì anche fare delle ripetizioni ma in maniera comunque che eh non sembrino ripetizioni quindi comunque o approfondire degli aspetti o specificare alcune cose dirle in maniera più esaustiva ed è quello poi che che abbiamo fatto nel nostro intervento di di questa pagina più abbiamo utilizzato anche qui un po' come la descrizione eh i grassetti per enfatizzare comunque i i punti chiave eh molto importante in questo caso ad esempio eh l'eco friendly quindi eh un po' come il made in Italy eh ci sono diciamo ehm delle degli aspetti che se il prodotto comunque eh ne gode cioè vanno valorizzati più possibile vanno spinti al massimo soprattutto comunque negli ultimi anni i prodotti eco friendly sono sempre più cercati quindi gli abbiamo dato comunque una una parte della pagina gli abbiamo affidato una parte della pagina apposita quindi abbiamo parlato di quello eh e di come possono essere comunque rispettosi della natura sono riciclabili eh e anche lì poi si fa uso delle delle parole chiave quindi torniamo sempre al discorso eh diciamo più importante quindi il discorso SEO e tra l'altro abbiamo anche qui abbiamo messo anche più moduli quindi eh diciamo come avete visto il primo caso stava tutto in una pagina qui abbiamo dovuto tagliarlo perché abbiamo messo molte più informazioni molto più immagini più organizzate e adesso passo alla seconda parte ecco sì esatto esatto quindi eh anche qui abbiamo eh si ha aggiunto moduli nuovi quindi eh diciamo per la maggior parte abbiamo aggiunto moduli nuovi informazioni nuove messe in maniera diversa altre come ad esempio questi eh quattro moduli comunque di approfondimento eh sono stati rilasciati le immagini sono quelli i titolini eh se non erro sono gli stessi ma comunque anche qui ehm li abbiamo sfruttati al massimo quindi li abbiamo resi meno anonimi abbiamo enfatizzato qualcuno l'abbiamo addirittura un po' cambiato comunque a livello di di scrittura abbiamo enfatizzato anche qui le parole chiave principali e le caratteristiche principali e abbiamo addirittura comunque ehm sfruttato uno spazio per eh descrivere i metodi i vari metodi di lavaggio del del prodotto utilizzando questo modulo comunque a a scorrimento quindi si va sopra col mouse e poi cambiano i vari metodi nei vari quadratini eh quindi anche molto carino diciamo e quindi diciamo che anche questo rispetto alla la versione originale eh che aveva fatto il cliente con le conoscenze che aveva c'è stato uno uno step abbastanza significativo sì esatto 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 perché comunque eh poi torniamo sempre lì il cliente comunque deve essere anche un po' eh invogliato nella lettura se non lo si invoglia comunque soprattutto quando le informazioni sono tante eh il rischio è che comunque si ferma eh o che comunque cambia eh quindi esce dalla pagina oppure addirittura eh che ci possono essere resi se magari le informazioni non vengono poste nel modo giusto o non vengono date quindi comunque noi con gli strumenti che abbiamo dobbiamo fare il massimo anche perché ecco perché prima eh dicevamo che i byte anche devono essere sfruttati il più possibile in maniera ovviamente sensata logicamente andiamo andiamo a vedere un altro esempio che abbiamo fatto questo era ex novo eh quindi il cliente è arrivato da noi con già il prodotto scusa eh scusate è il eh non aveva già una pagina creata esatto e eh esattamente qui in questo caso il cliente aveva eh caricato il prodotto comunque nell'inventario ma la pagina era completamente assente eh anche qui abbiamo seguito comunque sicuramente tutte le linee guida che vanno seguite che ho accennato prima allora eh questo comunque è un prodotto diverso dai precedenti eh con una variante con delle varianti di taglia quindi abbiamo implementato comunque anche questo tema variante quindi menu a tendina e possibilità di scegliere comunque le le dimensioni eh per il titolo stesse diciamo consigli e regole di prima quindi parole chiave sicuramente più cercate all'inizio e mano mano scorrendo da notare qui che c'è ehm è enfatizzato ehm il made in Italy perché il made in Italy comunque è uno di quegli aspetti eh come proprio lego friendly eh che va valorizzato il più possibile quindi non solo è consigliato magari iscriversi alla vetrina made in Italy ma anche proprio rimarcarlo perché comunque è un valore aggiunto eh e spesso fa fa davvero la differenza proprio nella nella scelta della del cliente dell'acquirente nel durante la fase di acquisto ehm da notare anche qui come ehm sempre per questo discorso abbiamo dedicato un punto elenco apposito quindi qui artigianato italiano quindi prodotto artigianale ehm quindi fatto a mano eh che dia anche una sensazione di eh una certa qualità ehm un consiglio anche molto importante soprattutto per questo tipo di di prodotti quindi i prodotti che eh molto soggetti eh a essere comunque regalati come in questo caso ehm può essere un buon consiglio comunque dedicare un un paragrafo proprio apposito in questo caso idea regalo che tra l'altro è anche una parola chiave ad alto volume e e quindi dedicarlo ehm proprio per questo aspetto e magari mettere eh inserire nel discorso una piccola lista di ricorrenze che possono anche variare non so magari eh in questo caso ci sono un po' tutte in altri casi magari se ne mettono alcune o magari i giorni prima di San Valentino ecco le settimane prima si aggiunge perché comunque la pagina anzi modificare la pagina fa bene fa bene alla pagina stessa quindi comunque le modifiche ci devono essere anche in base ehm alle stagioni per esempio e e quindi in questo caso abbiamo inserito comunque un elenco di di varie ricorrenze in modo tale da farlo da rafforzare poi l'indicizzazione anche anche per chi cerca poi il prodotto durante le le varie festività. Mi interrompo un attimo Valerio che rispondiamo a una domanda di Stefano eh che ci ha chiesto di quanto avete aumentato le vendite di questo prodotto con il vostro intervento? Eh allora già Amazon ehm ci dice lui stesso che attraverso ad esempio le le i contenuti a più eh si può avere un aumento del dieci per cento di conversione ehm diciamo nel nostro caso è stato superiore perché poi il cliente ha anche ehm con noi sottoscritto un piano per le le campagne pubblicitarie quindi poi una volta che noi abbiamo creato la pagina abbiamo trovato e inserito le varie parole chiavi e abbiamo attivato la campagna pubblicitaria che lui già aveva ma non riusciva a performare perché mancavano anche le parole chiavi e perché mancava la conversione della pagina come hai potuto vedere nella nella slide di prima nell'esempio degli estintori stiamo siamo diventati Amazon Choice quindi lì c'è stato un aumento veramente del 60-70 per cento quindi è è difficile dare un un valore ehm unico ogni caso è a sé però chiaramente le conversioni quando si ha un vedo come l'ho definito a inizio della live un biglietto da visita che esprime non solo le caratteristiche positive del nostro prodotto ma che ci dà anche un'immagine di serietà al cliente finale le conversioni ehm aumentano aumentano in maniera in maniera consistente poi chiaramente alla base ci deve essere anche un prodotto buono appetibile però se il prodotto buono è appetibile è presentato male le vendite latitano se lo stesso prodotto buono ed appetibile è presentato in maniera corretta allora lì veramente si può ehm incrementare di molto le le percentuali di conversione eh poi tra l'altro Stefano ci dice anche pagina prodotto bellissima complimenti eh grazie grazie mille quindi insomma eh se se poi eh tu Stefano come chiunque altro voglia alcune informazioni ci può sempre contattare alla mail servizi chioccio la scuole commerce punto com eh non so se anche tu Valerio volevi rispondere alla domanda di quanto aumentano le vendite eh con ehm con le pagine prodotto rivisitate se quello che ho detto io è corretto è corretto e ecco qui ritorniamo anche ci riagganciamo anche al fatto delle PPC perché comunque allora la base deve essere una buona listing anche per far funzionare le PPC stesse quindi se non c'è non ci sono i presupposti eh di una buona listing va eh si deve prima intervenire su quella e poi diventa la migliore alleata di una di una di una buona listing la PPC quindi ecco perché camminano di pari passo eh ad esempio nel caso di questo cliente l'incremento è stato addirittura superiore comunque del eh del del normale proprio perché abbiamo affiancato quindi è stata ancora più potente comunque la spinta abbiamo affiancato una buona listing SEO accattivante a una buona strategia comunque di di campagne pubblicitarie allora andiamo a vedere qualche altro esempio che abbiamo selezionato eh sì una parentesi sul sempre su questo pro esatto sulle tabelle sulla tabella comparativa eh quella che eh esatto quella lì eh quindi su per questo prodotto ehm abbiamo realizzato non solo la listing comunque che avete che avete visto eh ma anche una pagina più però adesso vi volevo mostrare in particolare la la tabella comparativa per diciamo per accennare anche questo che è molto importante anche tra l'altro quindi eh a cosa serve principalmente la tabella comparativa allora innanzitutto si possono eh rimarcare nuovamente se non lo si è già fatto le caratteristiche fisiche del prodotto quali misure peso e comunque caratteristiche un po' più tecniche ma l'uso principale qual è nel caso si abbia una linea di prodotti similari tra di loro quindi di sfruttare questa cosa qui e implementare quindi nella pagina più perché senza pagina più non è possibile fare questo ehm quindi dare visibilità anche ad altri prodotti della propria linea in questo caso ad altri bracciali quindi eh far vedere magari le differenze quindi eh da notare poi che c'è un link quindi il cliente ha la possibilità di arrivare direttamente cliccando sul nome del prodotto alla relativa pagina e e quindi diciamo viene favorita enormemente eh diciamo la l'attività di 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 cross selling e up selling quindi la l'acquisto di prodotti o complementari o comunque similari eh o aggiuntivi a quelli diciamo che si stanno già vedendo e e diciamo è molto efficace dobbiamo dire che è molto efficace eh perché notiamo spesso che comunque eh dalla pagina poi passano dall'altra pagina dell'altro prodotto quindi comunque è la prova che che funziona sì esatto è una è un'ottima strategia per far vedere più prodotti della nostra linea eh allo stesso cliente quindi il cliente non deve per forza trovare ogni singolo nostro prodotto pubblicato nel catalogo ma arrivando su un prodotto del nostro catalogo poi attraverso eh questi link come bracciale bizantino e bracciale personalizzabile riesce a essere dirottato direttamente all'interno eh della della pagina prodotto in questione per poter fare l'acquisto comunque eh continuare a navigare all'interno dei nostri prodotti esattamente il ragionamento è questo ok va bene ti capisco perché anche io vediamo altra cosa importante altra cosa importante sono gli stessi listing che noi ad esempio facciamo per il il marketplace italiano possano essere fatti e questo è un caso del cliente ehm di cui abbiamo visto i contenuti a più prima per mercati esteri in questo caso credo che sia il tedesco mi ti confermi Valerio tedesco tedesco sì sì marketplace eh Germania esatto e qui eh allora prego 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 Lorenzo no no prego volevo chiederti appunto con che criterio andiamo a poi a realizzare un listing per un mercato ehm europeo quindi o anche americano ehm con con l'inglese eh perché chiaramente Amazon già già ci dà la possibilità di avere il listing tradotto automaticamente nel marketplace di riferimento anche una volta che abbiamo creato il nostro listing in Italia però ci sono eh delle piccole accortezze ci sono delle cose poi che vanno eh fatte per migliorare le performance nei nei mercati di riferimento esattamente esattamente è proprio quello che dove volevo arrivare infatti allora eh noi ci occupiamo sia quindi di creazione listing estere ex novo sia di eh trasposizione quindi di listing italiane a listing estere allora in questo caso è un un prodotto eh che già eh di cui già avevamo curato la pagina eh tra l'altro è un prodotto di cui prima abbiamo visto la la pagina più e quindi c'è stato commissionato anche la realizzazione comunque della pagina della rispettiva pagina italiana però versione tedesca allora qui eh il discorso principalmente è lo stesso in termini di eh strategia di realizzazione nel senso che eh sì quindi Amazon ehm permette comunque eh di attivare una traduzione automatica della listing bisogna però eh comunque precisare che è una traduzione un po' superficiale un po' blanda molto letterale e che non tiene conto soprattutto delle eh parole chiave che magari in Italia vanno bene e in questo caso la Germania magari non vanno più bene quindi cosa facciamo? Allora quindi in questo caso siamo partiti naturalmente da quella italiana quindi l'impostazione a quella i messaggi che abbiamo dato sono quelli però siamo andati a fare comunque un lavoro certosino anche qui di ehm ricerca eh di eh keywords quindi sostanzialmente abbiamo fatto da zero una nuova ricerca keywords eh proprio per risultare inerenti e adattare comunque la pagina a quel marketplace e a quegli acquirenti perché comunque ehm vi accorgerete che quando farete ricerche SEO eh per un paese poi per un altro poi per un altro ancora vi accorgerete che alcune parole sì dall'italiano sono il corrispettivo tedesco o inglese o francese ma altri cambiano totalmente quindi magari eh adatta adattiamo sempre la pagina comunque al mercato di riferimento e agli acquirenti di riferimento utilizzando termini anche qui ad alto volume ma sicuramente eh termini che siamo sicuri eh che siano utilizzati eh in quel paese per cercare questi prodotti quindi comunque la traduzione non apparrà ehm non apparirà mai ehm diciamo superficiale quindi apparirà comunque fluida come quella italiana eh studiata attentamente in ogni frase in ogni punto elenco nel titolo pezzo pezzetto per pezzetto e quindi la traduzione comunque naturalissima e in più anche a livello SEO avviene comunque anche qui ehm l'ottimizzazione quindi l'indicizzazione organica ci sarà anche qui perché verranno usate come accennavo le le parole chiave comunque giuste specifiche per utilizzate poi dagli acquirenti durante la ricerca. Anche perché insomma non c'è cosa peggiore per un acquirente ad esempio come noi madrelingua italiana arrivare su un listing e leggere un listing con un italiano che è veramente insomma brutto da leggere ecco eh la stessa cosa. Capita anche spesso. Capita molto spesso io personalmente non compro mai eh da venditori che hanno dei listing eh dove l'italiano è palesemente ehm fatto con un translate dove non si riesce bene a capire eh il il filologico del discorso. La solita cosa accade anche per i clienti ehm ai clienti a cui noi proponiamo i nostri prodotti all'estero quindi anche loro anche magari in questo caso nel marketplace tedesco ci sarà il madrelingua tedesco che vorrà avere un listing nella sua lingua nella sua lingua chiara e precisa. Esattamente. Andiamo a vedere un altro un altro caso ok quindi chiaramente facciamo tutto questo anche per i contenuti a più quindi anche contenuti a più poi vengono diciamo tradotti ehm nella nella lingua di riferimento eh ci appoggiamo anche a dei madrelingua quindi insomma è proprio il madrelingua che poi eh ci dice eh se sei eh il il testo va bene se c'è qualcosa da migliorare se alcune se alcune ehm discorsi alcune frasi non tornano e quindi interveniamo anche. Esatto. Eh assolutamente è importantissimo questo. Lo stesso vediamo con questo. Ok questo è un dopo quindi vediamo magari questo che è il prima. Ok. Ah ok qui si ritorna di nuovo a un listing italiano. Anche qui possiamo far vedere come inizialmente anche a livello di inventario ehm c'era un po' di di confusione con i prodotti con schede ehm prodotti della stessa tipologia ma messi in schede diverse quindi si si perdeva un pochino il filologico eh di tutto quello che era i i prodotti in inventario dopo il nostro intervento siamo riusciti a riaccorpare tutto a ripristinare comunque le e per rispondere anche alla alla domanda che ci veniva fatta prima da Stefano se le vendite aumentano vi vi invito anche a guardare le recensioni che siamo passati praticamente da avere otto sei recensioni ad averne ventiquattro quindi a testimonianza che una volta che noi presentiamo anche eh un prodotto o i prodotti in questo caso in un modo ordinato pulito eh con tutte con tutti i crismi al loro posto riusciamo anche ad avere un un aumento delle vendite esattamente da qui eh per quanto riguarda sempre il discorso di sistemazione inventario ad esempio eh non solo abbiamo eh comunque eh implementato eh varianti che nel eh nell'inventario già erano presenti nel catalogo già erano presenti ma erano comunque slegate messe in modo disordinato ehm quindi comunque le abbiamo tutte raggruppate in un'unica pagina messe in modo ordinato nella nella stessa listing e in più abbiamo fatto di un di un doppio ma di variazione come potete vedere quindi eh variazione di colore quindi di modello in questo caso e variazione di taglia quindi il cliente avrà la possibilità comodamente di eh selezionare la IML di preferenza e automaticamente andare a vedere quali di quelli di quei modelli sono disponibili per per quella per quella taglia insomma per quegli ML quindi comunque assolutamente esatto oltre che poi all'aver il titolo e anche i vari bullet point perché insomma anche prima i bullet point erano molto eh schematici no sbagliato sono di qua ok prima i bullet point erano molto schematici molto schematici molto 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 e adesso sono sono insomma hanno tutte le varie parole chiavi che ci servono per essere eh trovati dai nostri clienti ed avere anche un copy eh che che mira la vendita oltre che a presentare un po' tutta la il listing e tutta la scheda in in maniera più che ottima quindi insomma un bel titolo del una bella disposizione delle varie delle dei vari tipi di di borracce con le taglie i vari colori e sotto tutta la descrizione quindi anche a livello di impatto rispetto a una cosa del genere è un tutto un altro tutto un'altra cosa è un cambiamento è un buon cambiamento che comunque poi di di cui poi gli effetti si diciamo sono evidenti gli effetti sono evidenti ok andiamo a vedere se c'è altro altre domande eh che ci avviciniamo agli ultimi tre minuti ehm Gabriele se vuoi interrompere anche un attimo la condivisione giusto che almeno ritorniamo in primo piano grazie mille ehm vedo un altro messaggio di sempre di Stefano grazie mille della risposta sto facendo il vostro corso come Amazon account manager e sto scoprendo un mondo Stefano in bocca al lupo eh sì assolutamente ci sono tantissime eh cose da sapere da conoscere eh però insomma è sicuramente una professione che siamo sicuri che ti porterà molte soddisfazioni così come ha portato soddisfazione al nostro Valerio che è passato già dal percorso di Amazon account manager come ci spiegava a inizio live eh qualche annetto fa e insomma adesso è un professionista a trecentosessanta gradi del mondo di Amazon sì sì assolutamente è un'attività eh senza dubbio stimolante ricca comunque di sfaccettature e sicuramente non annoia mai quindi già già questo è un buon presupposto comunque per per perché no per provare a cimentarsi ecco assolutamente assolutamente non so c'è c'è qualcosa altro Valerio vuoi aggiungere qualcos'altro ci avviciniamo alla chiusura abbiamo giusto un paio di minuti intanto chiede le ultime domande sì giusto ecco come abbiamo accennato all'inizio comunque durante la live eh ovviamente ci occupiamo anche di sistemazione quindi di problemi del catalogo quindi non solo eh ripristino magari delle eh relazioni parent child ma anche compilazione eh massiva di eh modelli Excel adibiti poi al caricamento massivo di file e alla modifica poi più rapida eh ogni qual volta fosse necessario e a risoluzione comunque di problematiche tra le più svariate perché come sapete anche voi come se avete iniziato comunque eh avrete notato che i problemi comunque non mancano nel nel catalogo soprattutto quindi errori di vario genere quindi ci occupiamo anche di quello si 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 valuta comunque la qual è la problematica e e poi comunque si si valuta la fattibilità e si parte comunque con la con l'analisi e la risoluzione del del problema stesso assolutamente questo è molto come dicevo problemi di vario genere sì anche sblocchi ad esempio sblocchi di prodotti molto importante sì sì perché poi eh chiaramente Amazon spesso è molto difficile comunicare con Amazon una delle problematiche di noi venditori Amazon è quello che quando abbiamo un problema poi la risoluzione diventa lunga e difficile eh nel senso che spesso noi ci troviamo un po' a a combattere contro un muro di gomma ed avere delle risposte che sono un po' preimpostate questo è uno dei dei problemi che ci sono sulla vendita di Amazon avendo noi una case history avendo affrontati molti problemi in questi in questi anni eh solitamente abbiamo delle ottime chance di 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 successo qualora si presentino degli errori o dei momenti in cui eh non riuscite ad andare avanti con l'aggiunta dei prodotti i dettagli dei prodotti i blocchi dei prodotti come diceva prima Valerio abbiamo insomma eh una case history ehm abbiamo visto molteplici errori messaggi di errore da parte di Amazon e siamo comunque in grado oramai di 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 riuscire a sistemare un po' tutte le situazioni eh chiaramente come come sempre vi diciamo eh valutiamo ogni singola occasione ogni singolo caso ehm preso a sé a sé stante eh quindi caso per caso eh vi invitiamo quindi a scriverci alla mail servizi chioccio la scuola e commerce punto com ehm ci scriverete dicendoci qual è il vostro problema a quel punto poi una volta che avremo capito eh la vostra necessità sia che sia all'interno del catalogo di Amazon o esternamente eh capiremo qual è la strada migliore da intraprendere eh verrà fatta una 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 chiamata conoscitiva per valutare l'effettiva possibilità di ehm riuscire nel nostro intento quindi nel risolvervi il problema ehm e offriamo sempre la garanzia soddisfatto rimborsato quindi qualora le nostre conoscenze non non ci permettessero di 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 eh risolvere la situazione che avete vi rimborseremo al cento per cento la la cifra quindi insomma è una formula anche vincente per per tutti voi quindi io vi ringrazio per essere stati con noi anche questo questo pomeriggio eh ringrazio Valerio grazie mille grazie a voi grazie veramente è stato un piacere insomma poi ci rincontreremo presto anche per per altre tre tematiche sul sul mondo di Amazon eh quindi grazie ancora per averci seguito grazie a Gabriele dalla regia io vi auguro a tutti una buona giornata buon lavoro e ci rivediamo grazie in martedì prossimo alla stessa ora ciao Stefano grazie ciao a tutti grazie a tutti